Il ritiro dell'atto è stato proposto dall'Aggiunta, in questo caso, così come dichiarava la testa di Sant'Altà, dovrebbe essere, diciamo, in grado anche solo dall'Azina e in questo caso, però, come dire, rilevo che c'è una, diciamo, la tua mente è in postazione, il consiglio è soltanto, quindi, rispetto alla proposta di Dio, il consiglio si dovrà poi esprimere, certo, valore oppure è importante. Io, per me, 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 perché su una cosa, io sono, da te, nel momento, vogliamo ascoltare, vogliamo ascoltare, consiglio di risposta, non si, no, lo sentite di risposta. Su una cosa che io sono d'accordo, cioè, con l'intervento di Dio, per me, per me, per me, per me, noi abbiamo una cadenza, diciamo, che c'è stata dalla testa del rete di Dio, io dal consigliere di Odis non sentivo la rosa di Dio, mentre, nel corrento, mentre, nel Dio, ma, in ogni caso, quella del Dio, qualora posso significare, il partito di Dio è significato, ma lo stesso, come me, in quella di Dio, per me, è, anche un'intervento di Dio, secondo, che le sono quelle di Dio, scuola, cioè, continuare a perdere un dibattito, su una questione, sulla quale non si capisce, non si va a domani, ma si continua a non capire, non è lo che è il patente, dove, al senso, è continuo a non fare, uno a quali sono le sue proprietà, dove, in attenzione, la testa del sito di Dio continua a non parlare, e, per me, mi sembra presente, inutile proseguire la discussione, di Stato del Precce, inutile proseguire la discussione, nelle vostre intervento delle Sioniere. Ciao, io, prima, c'è il consigliere di Sant'Oroio, ma allora il consigliere di Sant'Oroio e Dio, per due viste in Cassini, si può non sei mai intervenuto non sei mai intervenuto è l'ultima... è l'ultima del... è l'ultima del... come si potrebbe intervenire in fronte i cittadini questo è un'unica per loro allora cittadine Grazie a tutti. 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 a tutti. e io a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.